La stagione estiva Si è visto, penso, sono stati molti errori ma anche perché abbiamo dovuto forzare molto il servizio per tenere la palla staccata a Trento, è andata bene Fino a qualche tempo fa Trento era una formazione molto temibile al servizio, oggi da quel punto di vista li avete annichiliti Beh lo è ancora, diciamo che stasera sicuramente non è girata come al solito, per fortuna per noi, invece siamo stati molto bravi noi abbiamo commesso qualche errore però insomma ci stava, con loro bisogna rischiare un po' di più Da Modena sei partito per Londra, sei tornato con un bronzo, a Modena vinci la Supercoppa? Sì, dicevo alla conferenza stampa ho detto che Modena mi porta bene, speriamo che continui così, non so se il V-Day, non c'è più il V-Day Speriamo che la organizzino Modena